Siracusa droga, beccato pusher con 800 dosi di marijuana, squadra mobile arresta trentenne. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un giovane di 30 anni, siracusano, colto nella fraganza del reato di detenzione e ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. In particolare i poliziotti hanno notato l'uomo entrare in un condominio dei complessi residenziali della zona alta della città con in mano una vistosa borsa di plastica come se fosse di ritorno dal supermercato. Gli agenti chiedendo i documenti al giovane hanno sentito un intenso odore di marijuana che si sbigionava dalla busta e pertanto hanno deciso di effettuare la perquisizione del sacchetto rivenendo circa 250 grammi di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi, tre bilancini elettronici di precisione e altro materiale per il confezionamento quali coltelli, busta di plastica e carta alluminio. Tale quantitativa di droga corrisponde a circa 800 dosi per un valore di circa 3.000 euro. Il giovane è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.